Buongiorno a tutti, volevo fare questo video perché io sono un amante della psicologia e diciamo che per caratteristiche mie psicologiche io sono una persona che tenderebbe ad essere abbastanza ossessionata dalle cose quindi in modo un po' velato sono entrata un po' in contatto con un po' di ossessioni che in realtà come dicevo non ho approfondito del tutto però mi sono avvicinata parecchio e ho avuto la possibilità quindi di documentarmi molto perché sono una persona che comunque quando accapitano le cose nella vita mi attacco molto agli eventi e cerco di comprenderne le cause anche se queste non si sono ancora verificate quindi avete capito un po' la tipologia di persona con cui state avendo a che fare in questo video questo video lo sto girando perché un po' di tempo fa mi sono imbattuta in un articolo che diceva che le fobie più numerose in termini di statistiche sono quelle inerenti alla paura dei germi e dei batteri dell'incontaminazione, della sporcizia quindi volevo fare questo video mi sono sentita di fare questo video perché io sono una persona molto disordinata però anche molto pulita quindi nel mio disordine io sono sempre stata comunque pulita difficilmente ci si trovava a che fare con un posto comunque che ti rendevi conto che era non so marcio che cadeva a pezzi quindi ho sempre trovato un po' un equilibrio tra il mio disordine, tra il mio essere disordinata e comunque l'ambiente circostante per questo non sono mai entrata in questo tipo di ossessione perché io lo so comunque che sto vivendo in un ambiente che comunque si sarà disordinato ci sarà un po' di polvere ma comunque pulito cioè non vengono fuori germi ad uccidermi o a crearmi delle problematiche o insetti vari a meno che ovviamente non si tratta del periodo estivo o se si lasciano piccoli cibi magari per il gatto quelli attirano le formiche soprattutto l'umido però quello è un dato di fatto che vengano le formiche basta semplicemente tirarvi al cibo dare una pulita magari con un pelino di candeggina per essere sicuri e il gioco è fatto non tornano più le formiche appunto se non le richiamate voi con il cibo perché se io non avessi il cibo per terra appunto magari per quando ad esempio do da mangiare al gatto vi assicuro che io non ho mai avuto le formiche quindi le formiche vengono solo per quello le briciole e quelle cose lì però appunto pulendo la casa pulendo la casa tranquillamente vanno via quindi dato che io comunque perché sto facendo questo video perché voglio dirvi un po' come mi sono organizzata io nella speranza un po' presuntuosa me ne rendo conto perché credo che siano anche delle tematiche che in molti casi vadano approfonditi con uno psicologo se comunque stiamo parlando che stiamo parlando di una problematica che di fondo ha una aderenza di problematica psicologica dovuta ad un'ansia particolare ovviamente quello va approfondito da un psicologo però mi sono sentita in dovere di dire la mia perché io negli anni ho stipulato un'organizzazione che vorrei divulgare con voi magari qualcuno vuole prendere spunto essendo che appunto ho una caratteristica molto disordinata e quindi effettivamente mi rendevo conto che anche nella pulizia ero disordinata cioè tenevo a posto tenevo pulito un po' di qui e un po' di là però in effetti mi rendevo conto che certe pulizie andavano fatte con una certa cadenza quindi ho fatto così adesso vi faccio vedere allora qua all'entrata io mi sono fatta dei disegnini delle schede più che altro vedete? ve lo faccio proprio vedere vi faccio proprio entrare nella mia vita non ho nessun problema e adesso li prendo e ve li faccio vedere allora mettiamoli qua sul letto allora io ho stipulato questi fogli perché negli anni mi sono resa conto che effettivamente essendo che sono disordinata però necessitavo di avere una cadenza delle pulizie nel senso per esempio il tappeto il tappeto necessariamente va lavato che ne so ogni tre mesi ogni mese secondo la persona che pensa che debba lavarlo secondo le sue necessità se voi magari è un tappeto dell'entrata dell'entrata e sapete che fate avanti e indietro dalla porta cinque volte al giorno ovviamente magari secondo il vostro punto di vista sarà da lavare una volta a settimana quindi quello dipende da soggetto a soggetto quindi io cosa ho fatto mi sono fatta settimanale in cui ho scritto le cose che in realtà non è che sono urgenti però per esempio vedi il venerdì ho messo mettere fuori i cuscini un'ora quindi io così sono tranquilla per esempio che i cuscini prendono aria una volta una volta a settimana per bene piuttosto che andare fuori di testa e ogni giorno metterli fuori che magari piove magari magari li lascio lì perché sono indaffarata non posso ricordarmi quindi io per esempio secondo i miei canoni una volta a settimana metto fuori i cuscini a prendere aria senza fodera poi per esempio li ho divisi nella seconda ho fatto una seconda parte del mese e una prima parte del mese ok qua praticamente ho messo il mensile perché l'ho diviso in due perché innanzitutto diventava troppa roba diventava troppa roba e in secondo luogo perché facendo così sono molto più fattibili perché ho 15 giorni di tempo e io in questo modo mi trovo bene per come sono fatto delle azioni che secondo me vanno fatte mensilmente come per esempio pulisci contenitore posate e ripiano in questo modo io ho il contenitore delle posate una volta al mese pulito quindi anche queste cose qua dei ripiani della cucina di pulire che ne so l'asta della cucina sotto io ad esempio la stacco proprio e una volta ogni tre mesi vado a pulire bene con la scopa con la candeggina faccio una pulizia profonda però questo per dirvi una volta che voi avete segnato tutte le cose da fare cadenziate per mensilità è come se la vostra preoccupazione l'avete trasferita sul foglio voi avete tutto sotto controllo perché l'avete scritto nel foglio quindi poi potete dormire sonni sereni perché la casa comunque la state tenendo a posto non c'è il rischio di dimenticarsi di pulire di pulire magari qualcosa nello specifico perché anche per esempio se durante la settimana vi viene in mente che ad esempio dovete pulire anche sopra i mobili perfetto non c'è mica problema quello lì per esempio sarà un lavoro che è da fare ogni quanto ogni tre mesi ogni sei mesi pensateci e scrivetelo nella casella apposita dei tre mesi o dei sei mesi in questo modo io credo che vi alleggerite parecchio perché comunque voi lo sapete che state facendo quello che è giusto fare nelle tempistiche giuste corrette e per il resto avete la giornata a disposizione tranquilla per vivervi la vostra vita in modo sereno vi auguro di stare bene se vi è stato utile questo video se volete confrontarvi scrivetemi sarà mio onore e piacere comunicare con voi a presto